Le tracce di sangue sul muro sono il residuo di una nottata di ordinaria follia nel centro storico di Andria, come ci racconta la signora Marta. Siamo tornati a trovarla questa mattina dopo la denuncia di esattamente un mese fa, perché purtroppo, accanto ad alcune cose che fortunatamente sono cambiate, ne restano altre ancora lontane dal migliorare. Ma partiamo dalla stretta cronaca. Sabato scorso, attorno alle due di notte, un lancio di bottiglie in questa stretta viuzze, cioè via Arco Marchese, con il sicuro ferimento di qualcuno, visto le tracce ematiche che sono emerse domenica mattina. Lo scenario in questa zona al risveglio, però, era difficile da descrivere, se non con parole e immagini dei residenti. C'era vomito, bottiglie, vetri rotti lanciate alle due di notte, che purtroppo, ahimè, io non ho sentito nulla, altrimenti io sarei intervenuta, soprattutto il sabato e la domenica. E quindi a questo punto noi chiediamo anche la domenica di intervenire con la pulizia, perché, ripeto, come ho già detto, a me non dispiace pulire quant'altro, ma non posso pulirmi tutta la strada. E non è bello, anche visibilmente, come abbiamo già detto poco fa, l'immagine. Dai problemi straordinari, soprattutto del fine settimana, a quelli ordinari di ogni giorno, e cioè la raccolta spesso a singhiozzo in orari che si protraggono nella mattinata, come oggi. Queste immagini sono state registrate attorno alle 10 e la raccolta della plastica non è avvenuta. Un problema, questo, solo mitigato dalla presenza di un operatore in particolare, sempre molto disponibile e attento alla pulizia stradale e manuale. Come vedete lì la plastica non è stata raccolta. Ci sono giorni che viene raccolta, diciamo, la differenziata e giorni invece che c'è menefrechismo. Io ho segnalazioni scritte dove non mi invento nulla, dove sempre ho chiamato tutti i santi giorni, l'immondizia, faccio delle segnalazioni scritte e dove domenica abbiamo dei video qui, è il numero dove si fanno segnalazioni dell'immondizia, di quello che noi ritroviamo. Siamo alquanto stanchi perché non c'è collaborazione da parte di nessuno, è dai cittadini, è dalle amministrazioni, è dagli organi preposti. Io non so dove andremo a finire. Le cose che sono cambiate però in un mese ci sono. Innanzitutto la ritrovata sensibilità dei proprietari delle abitazioni abbandonate in quest'area che hanno provveduto a diverse pulizie, anche se restano alcune situazioni ancora da affrontare. E poi l'installazione di trappole per topi e l'intervento dell'ACUPI per alcune problematiche relative alla fogna nera. Sono intervenuti due o tre proprietari dove si sono veramente occupati, affannati a pulire tutta la sporcizia e quant'altro. Devo dire che anche ieri sono venuti e possiamo andare a vedere che hanno inserito anche un cancello dove c'era un abbandono di rifiuti in una nicchia particolare del loro muretto. E lì domenica, sabato notte c'è stato il delirio. Non le dico veramente in che condizioni c'era questa strada domenica mattina. La chiusura di diverse attività commerciali nel centro storico ha acuito comunque i problemi di sporcizia e atti vandalici a causa dell'inevitabile mancato presidio del territorio da parte dei privati. In quest'area non ci sono per esempio telecamere di videosorveglianza che magari potrebbero aiutare a individuare rapidamente chi commette atti di ordinaria foglia come quelli accaduti per esempio sabato notte.